Emiliana Cantone versus Alessio No Alessio, quale è? Emiliana Cantone e quell'altro? Come si chiama? Eh, come? Chi è l'altro? No, ehm... Sono pazzo... No, no, è Alessio, ehm... no No, no, è Alessio, è Alessio Alessio, Alessio, quella là sono pazzo di Alessio No, io dicevo quell'altra Allora, chi fa il vecchio? Francesco Francesco Io troppo l'altro e non vengo Ma è una famiglia numerosa, però, eh No, sto facendo video No, 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 è già fu video E fa no, e farò, e le dice le mie lette, no Oh, questo staதicendo, no, però Sara, fa il vecchio Sara, vai Sara, dai Sara, scavandando avanti ma veramente Alexia Emiliana Cantona allora? ma questa mi pare più... come si chiama? mi sembra più Gianni Celeste però eh la vera musica si riconosce una nave che appunta e che siamo facciuti ti credevo a fincere? è sicuramente... cuoco e su cielo la vera musica si riconosce babe, I'm here again a due cagli a due cagli sto tornando è fuori sto cazzoletto ma mi devi dire... ma ti devo chiedere dove sei? allora stai io sto piangendo dove sei ora? sto piangendo nel senso me lo riesci a dire prima che finisca i soldi sto in bagno dimmi la città sto arrivando oh, da stare in tante parte ora devo arrivare da te a spesso ho creatura che fa un creatura ciò ciò, è un creaturio risolto io sto viaggi a casa non ciò, non ciò, non abbiamo fatto non ciò, non, non ciò non ciò, non ciò è un'altra parte non ciò, non ciò happeni Grazie a tutti.